Purtroppo era prevedibilissimo e certamente una responsabilità deve sentirsela sulle spalle chi come Ministro Alfano sta continuando a dare messaggi sbagliati, messaggi che sono quelli di un'accoglienza che può essere ovviamente oggetto di speculazione da parte degli scafisti, da parte della criminalità che utilizza queste persone come merci di scambio. Noi lo diciamo da tempo, l'assistenza deve essere fatta ai profughi sulle sponde dell'Africa come già fece il governo quando Ministro fu Roberto Maroni e certamente non è dando l'esempio portandoli con le navi da questa parte che si disincentiva questa enorme massa di persone che viene commerciata da delle organizzazioni criminali che meriterebbero tutto il peggio che si può immaginare. Beh innanzitutto un dispiacere ma questo testimonia che Mare Nostrum è un fallimento come la Lega sta dicendo da diverse settimane, da quando c'è Mare Nostrum che è un'operazione militare e umanitaria nata dopo il naufragio dell'ottobre 2013 sempre a largo di Lampedusa, questa doveva rappresentare un deterrente per gli sbarchi e doveva rappresentare per una sicurezza per i clandestini o i sedicenti profughi in realtà quello che è avvenuto in questi ultimi giorni testimonia che non salva assolutamente le vite umane ma rappresentando un incentivo agli immigrati che arrivano alla media di mille al giorno aumenta il rischio di incidenti di un naufragio come si è verificato negli scorsi giorni. Quindi lo sottolineiamo ancora una volta di più, questa è una tragedia di Stato è il fallimento di Mare Nostrum, è il fallimento soprattutto del ministro dell'interno Alfano che non sa più da che parte girarsi per risolvere il problema dell'immigrazione. Ma sono situazioni che lasciano molto perplesso nonostante la Lega abbia più volte sottolineato l'incapacità anche di questo ministro degli interni di essere sul pezzo e quindi di valutare insieme all'Europa una posizione ferma che contrasti in modo serio le partenze soprattutto e questa operazione Mare Nostrum che fa acqua un po' da tutte le parti. Si è sbandierata l'importanza di questo atteggiamento nostro dell'Italia di essere buonisti come capita spesso e questi sono i risultati. Tantissima gente sta partendo, è partita e tantissima altra ne partirà in ricerca di un futuro migliore, un futuro che probabilmente anche i nostri giovani qui in Italia non hanno e quindi succedono queste tragedie. Poi ci si scandalizza, ci si innalza persone offese della questione però sono morti un po' annunciate. Male, nel senso che siamo in un momento critico, siamo in un momento in cui più di altre volte, più di altri momenti, questo governo dimostra di essere inefficiente e inefficace. Quest'Europa dimostra di aver abbandonato ancora una volta l'Italia al suo destino e in questo momento siamo nella situazione ancora più di altre volte in cui l'operazione Mare Nostrum che costa circa 10 miliardi di euro si riduce praticamente a un'operazione dove i soldi vengono praticamente buttati via, dove i soldi per far ripartire il lavoro in Italia non ci sono perché questo governo ha messo 0 euro per far ripartire l'economia e dove si spendono 10 miliardi di euro per portare dalle coste libiche alle coste italiane dei clandestini. Questa situazione la riteniamo comunque poco edificante per lo Stato italiano visto e considerato che abbiamo una grandissima tradizione e soprattutto le regioni del nord poco per volta si stanno trasformando nel contenitore di quelle che sono i giochetti del Ministro Alfano. Prendono i clandestini dalle coste libiche, li portano in Italia e subito li trasportano nelle regioni del nord. Questa cosa non ci piace assolutamente. L'ennesima stage che a nostro modo avevamo anche un po' previsto. Quando avevamo contestato l'iniziativa dell'operazione Mare Nostrum e le parole del Ministro Alfano quando era venuto in aula e noi avevamo contestato pesantemente le sue parole gli avevamo detto essenzialmente due cose. La prima è che lui dovrebbe pensare a difendere i nostri confini, cosa che non fa e la seconda è che quell'operazione avrebbe comunque portato al rischio di avere delle vittime di disperati in mare. Purtroppo questo rischio si è verificato. Noi continuiamo a ribadire una cosa che è quella che facevamo quando Roberto Maroni era Ministro dell'Interno. Per salvare le vite umane e tutelare i confini territoriali l'unico modo per far questo è quello di attuare i respingimenti per cui utilizzare i soldi e i mezzi militari che vengono utilizzati per l'operazione Mare Nostrum, utilizzare tutto questo per fare respingimenti effettivi in maniera tale che questa gente non possa partire, non arrivi in Italia perché da noi non c'è né un posto di lavoro e ci sono tutti i rischi del caso avvenuti questi giorni. Ma purtroppo non bisognava non bisogna essere dei fenomeni per capire quello che sta succedendo però la tragedia si somma anche l'ipocrisia dell'Europa. Ieri la commissaria europea si è resa conto finalmente che nel canale di Sicilia donne, bambini, gente innocente, poveracci insomma, stanno morendo, stanno morendo e l'ipocrisia dell'Europa non ha confini, non ha vergogna, questo ci lascia veramente particolarmente perplessi e ci lascia pure perplessi l'incapacità di Angelino Alfano, l'incapacità di gestire una situazione e avere come già più volte abbiamo richiamato l'autorevolezza di andare in Europa e far presente che non è un problema solo del nostro paese, è un problema di tutta l'Europa. La stessa Europa, e non mi stancherò mai di ricordarlo, alla quale abbiamo dato anche il premio Nobel della pace. Qui c'è gente che muore e il premio Nobel della pace gira la testa dall'altra parte. Questa è una vergogna e si devono vergognare tutti quanti, altro che più Europa. Bisogna andare in Europa a prendere tutti a calci in quel posto.